ragazzi allora weekend che vedrà questo video come unico video del weekend come avevo detto prenderò mi sto prendendo degli spazi per me anche perché c'è lavoro c'è altro e lo dico proprio col cuore in mano fortunatamente c'è altro non per la juve ma per tutto quello che ne cuccia ovviamente è lavorativo per me youtube un passatempo e lo sarà praticamente sempre nel senso che non farò mai youtube con come un lavoro anche perché se poi lo fai come lavoro spesso poi diventa un discorso che devi modificare anche il tuo modo di pensare per compiacere gli iscritti e fare più visualizzazioni io non sono così non me ne frega assolutamente nulla quindi dico sempre la mia detto questo ieri ho avuto da fare sono stato vedere come parma ed è stato uno spettacolo meraviglioso col come ha vinto 4 a 1 come women poi ho visto il derby non hanno potuto fare perché poi la sera ho lavorato non ho potuto fare il video e posso solo dire che sto ancora godendo come un riccio per il gol di braovic perché i derby si vincono e non me ne frega niente del gioco delle cose quando batti il toro è sempre giusto godere sempre poi aggiungiamo anche che oggi la primavera ha perso ma concedetelo concedeteglielo a questi ragazzi hanno vinto quasi tutte le partite hanno perso solo a parigi e oggi col bologna dopo una striscia di vittorie consecutive importanti e dopo la vittoria in youth league mercoledì cioè la juve è una squadra che purtroppo o per fortuna giocando più di un impegno a volte veramente riposa pochissimo e mi sento di dover far comunque i complimenti alla squadra che anche a bologna ha dato la sensazione nonostante il 4 a 1 di non non aver mai mollato mai ho cercato sempre di rimetterla in piedi non ce l'ha fatta perché il calcio è questo ed è bello del calcio contentissimo per l'under 23 che ha vinto 3 a 0 contro la prosesto e questa è una vittoria fondamentale perché la juve aveva bisogno di questi tre punti e ora arriviamo alle juventus women che vincono 4 a 0 a genova a bogliasco contro la samp lo stadio dei tre campani campo tre campanili di bogliasco l'anno scorso abbiamo giocato al campo garrone quest'anno al campo tre campanili la samp onestamente un po mi delude sulla gestione women per quanto riguarda gli stadi perché sappiamo benissimo che non possono giocare al marassi ma non voglio pensare che non ci sia uno stadio più bello di quello per giocare questo tipo di partite il pubblico ha fatto fatica a starci il campo garrone già è più è più strutturato ma non so non ho potuto giocare lì veniamo dunque invece alla partita partita che il risultato secondo me complessivamente giusto ma il primo tempo possiamo dire che ha avuto risultato molto bugiardo la samp ti ha massacrato nel senso che ha avuto 4 5 volte la palla per passare in vantaggio e le ha sbagliate tutte in gago veramente ne ha sbagliate tutte ma soprattutto concedetemi una per un magnen che dimostra sempre di essere il miglior portiere del mondo è una garanzia parate importanti parate decisive parate che hanno permesso la juve di non calare quando la juve ha cominciato poi a giocare prima caruso per nilden e 1 a 0 poi buona sea che inventa un grandissimo gol per il 2 a 0 proposito questo è un ritorno molto importante per la stagione della juve quello di barbara buona sea nel secondo tempo poi oggi bisogna dire la verità non c'è stata partita la juve è partita forte ed è andata avanti fortissimo ha trovato il 3 a 0 soltanto intorno al settantesimo con nilden ma non ha rischiato praticamente niente 4 a 0 è arrivato con un gol di cantore che è stata abile a sfruttare un'uscita sbagliata del portiere ma è stata molto brava e così la juve vince questa partita che non era facile e che insomma ci permette di stare attaccati alle prime che è l'obiettivo in questo momento no perché in questo momento avevamo gli obiettivi stare attaccati alle prime se non prima ma stare attaccati comunque alla testa e puntare poi all'accesso ai gironi e poi giocarci i gironi noi non abbiamo avuto la fortuna della roma nei sorteggi quindi non abbiamo non abbiamo un girone semplice ma mercoledì si comincia e sarà fondamentale vincere a zurigo ma non sarà assolutamente facile e poi domenica ci sarà il milan attenzione perché il milan viene da una serie pazzesche di sconfitte tante 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 ha vinto due partiti di fila ma poi ha ritrovato la realtà in faccia perdendo malissimo 4 a 0 con l'inter e attenzione perché può essere già una partita importante più per il milan che per la juve perché se il milan dovesse uscire male anche con la juve non lo so sinceramente vedrei molto in bilico la situazione sfogliatoio allenatore perché mi dà la sensazione che l'ambiente del milan sia un po una polveriera però ovviamente prima pensiamo allo zurigo perché se non vinciamo con lo zurigo già si complica maledettamente il gironi oggi migliori in campo senza ombra di dubbio per omegnan e nilden a pari merito decidete voi chi più chi meno fino alla fine forze ventos women